Prof. Marco Vitale, accingendomi a questa conversazione, sono andato sul suo sito e ho trovato questa presentazione. Economista di impresa, bresciano di nascita, milanese di residenza, internazionale per cultura e attività. Nato nel 1935, è sposato con Mimma, Toscana, e ha due figli, Luca e Nicola. Appassionato alpinista, sciatore e viaggiatore, è stato sulle o intorno alle montagne dell'Alaska, della Cordilliera Reale in Bolivia, della Cina, del Karakorum, delle Ande Argentine. Ha camminato sciato in Islanda, Patagonia, Pakistan e India. Ha percorso gran parte dell'Italia in bicicletta. In Italia il suo legame forte è con le montagne del gruppo alpino Hortles Cevidale, che, partendo dalla sua baita in Val Furva, ha percorso metro per metro, in ogni stagione e con ogni mezzo, rigorosamente esclusi i mezzi a motore. Ma ha anche girato a lungo la Sicilia, di cui è profondo conoscitore, partendo dalla sua casa nelle isole Egadi, che frequenta da 30 anni. Nel tempo libero lasciatogli da tali attività, ha svolto anche compiti professionali di qualche rilievo in vari campi dell'economia d'impresa. È una presentazione che mette in primo piano alcune sue passioni. Inizierei perciò questa conversazione proprio da quella per lo sport, che mi è parso di capire ha avuto un posto importante nella sua vita. Cosa la attrae dello sport e che insegnamento ne ha tratto? Io non sarei quello che sono senza lo sport, la mia professione non sarebbe quella che è senza lo sport. Non è che faccio una cosa e poi dopo mi metto a fare lo sport per il tempo libero. È parte integrante della vita, essere sportivi è un modo di intendere la vita. Quindi lo sport, lo studio, le prime esperienze professionali si sono mosse insieme, unite, fuse tra loro. Io venivo da una famiglia, mio papà non era per niente sportivo, era anche un grande appassionato di musica e cercò di farmi diventare violoncellista, imponendomi lo studio del violoncello dai 5 ai 13 anni. Io invece andavo a cercare lo sport perché lo sentivo essenziale per la vita e per fortuna quegli anni del dopoguerra erano anni di grande libertà. Non è come adesso che è tutto bloccato, ci vengono permessi, quando permessi noi vivevamo a Brescia, c'era una grande struttura sportiva, opera del fascismo, una casa balilla come si chiamava allora, con dei magnifici campi, piste, completamente abbandonato e potevamo fare quello che volevamo. Quindi per 5 anni era il nostro regno dei ragazzi che facevano, disfacevano, sempre giocando, giocando a calcio. Quindi lei giustamente, anche io nella mia presentazione parlo dell'alpinismo, però l'origine sportiva è nei due grandi sport popolari italiani, il calcio e il ciclismo. Quindi innanzitutto il calcio dove ho imparato moltissimo. Io quando poi insegnavo in Bocconi per insegnare il concetto di anticipo parlavo di calcio, perché senza l'anticipo il calcio non c'è e l'anticipo ci vuole anche nella vita come nel calcio. Se dovevo fare una lezione sul lavoro di team sul quale dedichiamo intere biblioteche, il lavoro di team è una squadra di calcio, la squadra di calcio dove c'è anche un grande campione potrà vincere qualche partita, ma non vince un ciclo, non si impone come ciclo se non costruisce un team, che è un'armonia di persone, di talenti che fa una grande squadra. Invece il ciclismo mi ha accompagnato fino agli anni 60. E allora anche qua facciamo una distinzione tra la professione e il ciclismo. Allora io le dico che alcune delle idee, delle chiarezze di pensiero migliori di natura professionale mi venivano quando io facevo i 50, 50, 100 km dall'Alzaia a Naviglio Grande fino al ponte di Oleggio e ritorno, sono esattamente 50 km che per tanti anni ho fatto due volte alla settimana, e durante questa pedalata, in mezzo a questa natura bellissima della bassa milanese, venivano le idee migliori, si continuava a pensare, quindi cosa facciamo la distinzione? Invece di star seduto dietro una scrivania, ero in bicicletta, ma mi venivano le cose più belle, le idee più limpide, le cose più semplici, venivano lì. Chiudo con un altro piccolo episodio più alpinistico, qui stavamo salendo nella valle del Calacorum, per andare al campo base del Broad Peak, che è vicino a K2, perché la nostra spedizione doveva fare il Broad Peak. Il capo della nostra spedizione era un alpinista famoso, che io però non rispettavo, e per come si comportò lo rispettai ancora meno. Questi alpinisti che vanno in giro invece solo per fare la montagna, per farsi dare la medaglia, senza rispetto di niente, di nessuno, cercano sempre di sfruttare, spremere, e quindi i nostri portatori, che erano a Sessantina, erano trattati un po' come capre, da questo capo spedizione, era il capo tecnico della spedizione, e quindi erano, anche la copertura notturna, non era in tende forti, era un telo di plastica leggera che non tenera niente. E dopo due giorni che siamo verso la montagna, è giunto un tempororone incredibile. Io sono già in tenda e sto leggendo e sento qualcuno che gratta alla tenda, apro la cerniera, guarda ci sono dei pastori, perché questi portatori lì sono dei pastori, dei contadini che fanno anche il portatore per raggranare un po' di soldi, mi fa vedere questa tenda di plastica che non tiene niente, dice water, water. Allora io mi è rabbia come una belva, chiamano gli alpinisti, compreso questo qui, e dico adesso voi montate la tenda pagoda, avevamo una grande tenda cosiddetta pagoda, che teneva 80 persone, che era quella che avremmo dovuto usare su nel campo base, montate la tenda pagoda, e ora andando su, ogni sera montiamo la tenda pagoda, e questo fu fatto, e così i pastori furono protetti dalle intemperie. Proseguimo, quello che è cambiato è che da quel momento i pastori, naturalmente si dimostrano a me come capo, l'altro capo non esisteva più, e tre o quattro tappe, perché ci sono dieci tappe, allora c'erano dieci tappe per salire, si sono un po' accorciate, per salire tutta la valle, una sera uno dei più anziani è venuto verso di me con una corteccia tagliata e fatta a modo di contenitore, come si usava anche noi in campagna, facevamo queste cose qui, come contenitore con dentro dei fiori, e me li ha regalati, e io ce li ho ancora, ecco questi episodi li ho raccontati per cercare di spiegare come io ho vissuto l'alpinismo, il viaggiare, come questi viaggi non sono una roba separata dalla professione, se io poi ho fatto una professione con un senso di umanità, di rispetto per i grandi, piccoli, a prescindere, è per queste lezioni che ho preso nella vita andando in giro, certo è un approccio, io ricordo invece la prima volta che quando arriviamo alla Paz nell'albergo incontrammo un alpinista toscano che conosceva i nostri alpinisti, e allora dove vai, cosa fai? mi dice, sono andato a fare questa montagna così, sono arrivato, ho fatto la montagna, domani riparto perché io ho questi barboni, non li voglio neanche vedere, e ci sono due modi diversi di accostarsi all'alpinismo, non è l'alpinismo unitario, come tutte le cose della ditta, può essere molto diverso.